Se vuoi avere glutei perfetti, devi allenarli tutti i giorni, fare mille squat, andare esclusivamente in palestra, caricare 120 kg di hip thrust e non usare mai le booty band, perché non servono. Se non fai tutte queste cose, i tuoi glutei non miglioreranno mai. Buongiorno ragazzi, bentornati sul mio canale. Ed eccoci qua di nuovo insieme per un nuovo video, in cui andremo a parlare di un argomento che a noi ragazze sta molto a cuore e soprattutto interessa parecchio. In questo video infatti ti darò 5 consigli che ti permetteranno di migliorare i tuoi glutei. Infatti dietro all'allenamento di questo gruppo muscolare ci sono tantissimi miti da sfatare, tantissime paure che accomunano la maggior parte delle ragazze e soprattutto c'è anche tanta disinformazione. Si sente che bisogna allenarli con le booty band, qualcun altro dice che bisogna allenarli con i pesi, qualcuno dice che bisogna allenarli tutti i giorni, alcuni no. Quindi facciamo appunto chiarezza su questo argomento in modo tale che tu possa migliorare e continuare ad allenarti bene e senza perdere tempo. Iniziamo quindi subito dal primo consiglio, ovvero che non ci sono esercizi magici per i glutei. Non c'è un esercizio che ce li fa diventare alti e sodi, non c'è un esercizio che ce li fa migliorare nel breve periodo. Sappi che ci sono ovviamente esercizi meglio di altri, ma quello che fa davvero la differenza è seguire una programmazione e allenarsi bene e con un senso. Quindi ovviamente come ti dicevo ci sono esercizi migliori di altri. Per me l'esercizio per eccellenza per quanto riguarda i nostri glutei è Lip Trust. E come Lip Trust anche tutte le sue varianti. Quindi ponte glutei, hip trust, b-stance, monopodalico, con bilanciere, con manubrio. Davvero possiamo spaziare e trovare tantissime varianti. Allenarsi anche con degli esercizi differenti, che però ovviamente si ispirano al fondamentale, è utilissimo. Prima di tutto per dare stimoli nuovi e diversi al nostro corpo e soprattutto non annoiarsi. Degli altri esercizi perfetti per allenare i glutei che vi consiglio sono stacchi e le sue varianti. Anche lo stacco sumo è perfetto. E poi ovviamente anche lo squat, che molto spesso viene demonizzato, ma secondo me per allenare i glutei è comunque uno degli esercizi migliori. Anche lui con delle varianti, come ad esempio anche lo squat hip hinge, in cui tieni il peso o la kettlebell in basso, in modo tale da aumentare il focus sulla catena cinetica posteriore, quindi su glutei e femorali. Come ti dicevo però, quello che fa davvero la differenza è seguire una programmazione, allenarsi nel modo corretto, e trovare anche la modalità di allenamento che sia compatibile sia con la nostra vita che con i nostri risultati. E questo poi andrà a spiegartelo più nello specifico più avanti nel video. Anche perché purtroppo non è così facile migliorare e non è così facile anche allenarsi e raggiungere i nostri obiettivi. Tanto è vero che, come dico sempre, quello che fa la differenza è allenarsi bene, allenarsi nel modo corretto, perché purtroppo non basta andare in palestra, alzare qualche peso, fare qualche corso. Ma per raggiungere i nostri obiettivi bisogna impegnarsi, essere costanti e seguire un programma. Soprattutto se siamo alle prime armi, che magari andiamo in palestra ma non sappiamo ancora bene dove girarci, che esercizi fare, che peso utilizzare. Ed è per questo che molto spesso sente anche la frase mi alleno ma non ottengo risultati. Appunto proprio per questo motivo, perché non stai facendo qualcosa che va bene probabilmente per il tuo fisico e per i tuoi obiettivi. Altro falso mito da sfatare, i glutei sono dei muscoli forti. In realtà, come qualsiasi muscolo del nostro corpo, se sollecitato, allenato in un certo modo, con sovraccarichi, cresce. E di conseguenza vale lo stesso anche per i glutei. Infatti se li vogliamo avere alti e sodi, l'unica strada è allenarsi con dei sovraccarichi. Attenzione a questa cosa, nel senso che non ti sto dicendo che devi fare squat con 80 kg, hip thrust con 120 kg, come spesso si vede. Ci sono anche altre tecniche di allenamento che possiamo utilizzare, soprattutto magari se ci alleniamo a casa, e ovviamente non abbiamo a disposizione la rastrelliera di 800 manubri che abbiamo in palestra. Infatti quello che ti consiglio è di impostare il tuo allenamento, magari con dei superset, con dei drop set, con delle isometrie. Questo quindi, anche se hai poco peso a disposizione, ti permetterà di mantenere il tuo muscolo più tempo sotto tensione, e di conseguenza aumentare l'intensità del tuo allenamento. E per quanto riguarda superset, vuol dire praticamente che fai una serie, e dopodiché fai un'altra serie, magari di un altro esercizio, oppure abbassando il peso, senza resti tra una serie e l'altra. Oppure aumentando il tempo di isometria, ad esempio fai hip thrust, arrivi su nel punto di massima contrazione, ti fermi qualche secondo, e poi scendi. Questo sarà efficacissimo, anche se appunto hai poco peso a disposizione, fidati che lo sentirai parecchio. Ovviamente, come dico sempre, l'allenamento e anche la dieta sono una delle cose più soggettive. Nel senso che dobbiamo trovare il mix perfetto, che ci faccia raggiungere i nostri obiettivi, sia sostenibile, sia compatibile con la nostra vita. E soprattutto che ci piaccia, perché comunque, se ci alleniamo in un modo magari troppo pesante per il nostro fisico, oppure che ci annoia, così facendo sarà molto difficile essere costanti, mantenere alta la motivazione, e come sai, la chiave per ottenere i propri risultati è la costanza, fare le cose con calma e godersi il percorso. Infatti, come ti dicevo, non tutte noi abbiamo lo stesso obiettivo, ok? Tanti di noi magari non vogliono quei glutei, così che si vedono alle palestrate, ma vogliono soltanto magari aumentare un pochettino la tonicità, migliorare leggermente la forma, averli comunque più sodi, e per questo non c'è bisogno di spaccarsi di pesi, squat e cose varie. Anche allenandosi a casa, con una copia di manubri o dei manubri componibili, e delle booty band, si possono ottenere grandi risultati. Però, ovviamente, se il tuo obiettivo invece è avere dei glutei alti e sodi, un pochettino più come tutte le ragazze che vedi in palestra, allora lì sì che devi allenarti forte in un certo modo, e ti consiglio comunque di allenarti in palestra, perché comunque per ottenere i risultati c'è bisogno proprio di utilizzare dei pesi, e anche abbastanza alti, diciamo tecniche di allenamento che vengono molto più facili in palestra rispetto che a casa. Questo per dirti che il nostro allenamento deve essere coerente con gli obiettivi che vogliamo raggiungere. Infatti, se tu vuoi avere dei glutei alti e sodi appunto da bodybuilder, come ti dicevo prima, allenandoti a casa sarà molto difficile, a meno che tu non abbia una predisposizione genetica pazzesca, però è difficile. Doi proprio per questo motivo che molto spesso si sente sempre la frase mi alleno, non ottengo risultati, ma perché ti stai allenando in un modo che non ti permette di raggiungere quei risultati. Quindi fai bene chiarezza su questa cosa, sii sincera con te stessa e vedi quello che ti piace e quello che ti fa raggiungere il fisico che desideri. Proprio per questo motivo ti lascio anche la possibilità di provare gratis un workout gambe e glutei in stile live, estratto da WarFit Hub, che è la mia piattaforma di allenamento, e te lo lascio qua. Ci alleneremo insieme per 50 minuti, infatti il video è proprio live, quindi faremo insieme tutte le serie, tutte le ripetizioni, io avrò la possibilità anche di spiegarti ogni esercizio e darti anche tutte le tip durante il workout. E questo è fondamentale perché molto spesso magari si fanno gli esercizi in modo scorretto, ci si distrae a metà workout, si perde tempo, poi magari si fa fatica anche a ricominciare. E questo può essere anche di ostacolo al raggiungimento dei tuoi risultati. Quindi diciamo che WarFit Hub, che è la mia piattaforma, si basa su questo format, che secondo me è il migliore, prima di tutto per chi si allena a casa, in cui è molto facile magari distrarsi, perdere la motivazione, soprattutto adesso magari che fa molto caldo, si va in vacanza. E poi ovviamente è anche molto d'aiuto per magari chi non ha una super esperienza in questo campo, e quindi non sa bene che allenamenti fare, come muoversi. E ovviamente oltre alla programmazione casa, che ci sono i workout, pensate da fare a casa, c'è anche la programmazione palestra, perché come sapete io credo in tutte e due, e io mi alleno sia a casa e in palestra, a seconda del tempo che ho, e dell'allenamento che voglio fare. Comunque ve lo lascio qua sotto da provare gratis. A questo punto passiamo subito al secondo consiglio. Non allenarti solo con l'obiettivo di cambiare il tuo fisico, ma abbi pazienza. Prima di tutto per ottenere dei risultati ci vogliono mesi, poi ovviamente dipende sempre dagli obiettivi che ci prefissiamo, però come ti dico sempre è un percorso di miglioramento, e come percorso deve essere visto in un'ottica di lungo termine, perché comunque il nostro fisico non si cambia da un giorno all'altro, non si cambia da una settimana all'altra, ovviamente nel giro di qualche mese riusciamo a vedere dei cambiamenti, però diciamo che se vogliamo avere dei risultati davvero tangibili, dobbiamo aspettare tanto. Proprio per questo motivo ti consiglio di non iniziare ad allenarti con pretese altissime, ovvero che nel giro di tre mesi voglio il glutei così, la spalla così, magari ispirandoti anche a delle foto che vedi sui social, a dei video, ai video magari delle fitness influencer, e quindi la cosa migliore è porsi dei piccoli obiettivi, raggiungivi diciamo anche nel breve periodo, questo ti servirà per mantenere alta la motivazione, e soprattutto essere costante, perché è molto facile mollare appunto perché non vediamo i risultati che ci siamo prefissati, e non li vediamo magari non perché in quel caso ci stiamo allenando male, ma perché sono obiettivi che non sono raggiungibili nel breve periodo, molto semplicemente. Poi come ti dicevo non allenarti soltanto con l'obiettivo di modificare il tuo fisico, l'allenamento deve essere una cosa che ci fa stare bene, deve essere una valvola di sfogo, deve essere un momento che dedichiamo a noi stesse, non considerarlo soltanto con la finalità di cambiare il tuo fisico, avere quel muscolo in un certo modo, anche perché la chiave per mantenere la costanza è che il fitness, l'allenamento diventi una priorità all'interno della tua routine. Anche lì specifichiamo che la forma del nostro bacino, delle nostre anche, della curva lombare, determineranno la forma dei nostri glutei, ed è proprio per questo motivo che le nostre ossa non si possono cambiare, quindi non porti obiettivi irraggiungibili per la tua conformazione, ok? Devi sempre cercare di creare la versione migliore di te stessa. Terzo consiglio, non allenarli troppo e non allenarli troppo poco. Allora, sempre qua è diciamo un tema abbastanza delicato, perché dipende da tante cose, dipende da come ci alleniamo, se ci alleniamo a casa, se ci alleniamo in palestra, se ci alleniamo con i pesi, se ci alleniamo a corpo libero, però quello che ti posso consigliare è che è meglio poco, costanti, ma fatto bene e fatto sempre. Infatti, quello che consiglio è di allenarli due, massimo ma massimo tre volte a settimana, perché comunque il recupero è fondamentale per i nostri muscoli, per recuperare e di conseguenza migliorare. Tanto è vero che molto spesso può capitare di iniziare ad allenarsi e vedere magari ritenzione che aumenta, gambe un pochettino più pesanti. Questo perché sì, ti stai allenando, ma vuol dire che c'è qualcosa che non va. Stai facendo allenamento troppo intenso, ti stai allenando troppo e quindi il tuo fisico reagisce così infiammandosi. Allenarsi tutti i giorni e soprattutto allenare i glutei tutti i giorni, o un giorno sì e un giorno no, non va bene. Non otteniamo risultati, non è che più ci si allena e prima raggiungevo i nostri obiettivi, anzi. Quattro, non stai mangiando abbastanza. L'argomento dieta all'interno dei miei video c'è sempre, perché comunque allenamento e alimentazione vanno a pari passo. Se ti alleni bene, mangi in modo corretto, i risultati arriveranno. Però ovviamente se uno dei due non è proprio come dovrebbe essere, lì ovviamente il percorso inizia ad essere un pochettino più in salita. Proprio questo motivo ricordati che tu devi nutrire il tuo corpo, devi avere le energie necessarie per allenarti e nello stesso tempo dare la possibilità al tuo corpo di recuperare le forze e andare a ripristinare i tuoi livelli energetici. E soltanto così riuscirai ad ottenere i risultati. Se mangi troppo poco, non avrai abbastanza energie per allenarti, come dovresti, e di conseguenza il tuo fisico sarà sempre stanco, spossato e questo rende davvero tutto molto, ma molto più difficile purtroppo. Quinto consiglio, camminare, fare allenamenti cardio, fare i corsi bruciagrassi in palestra, mangiare certi alimenti o prendere una determinata integrazione non ti permetterà di avere i tuoi glutei alti e sodi in questo modo. Camminare non tonifica, correre non tonifica, fare allenamenti HIIT e cose varie non ti farà migliorare i tuoi glutei. Anzi, tendono comunque ad asciugarti. Ad esempio la corsa tende a sì, magari farti dimagrire, si bruciano calorie, però non vai a costruire muscolo. E noi dobbiamo costruire il nostro muscoletto che deve rimanere lì. Altra cosa che, ragazzi, io mi ricordo che l'avevo sentita, non ci sono alimenti che fanno crescere i glutei. Cioè, ragazzi, fa già ridere così. Lo dico perché comunque stiamo sfatando tutti i falsi miti e quindi potrebbe esserci qualcuno che ha letto questa ricerca insieme a me, però ecco, no. L'unica è allenarsi, come abbiamo detto, e mangiare bene, mangiare equilibrato, mangiare le nostre cose. E con questo ultimo consiglio ti ho sfatato tutti i falsi miti, ti ho dato tantissimi consigli per quanto riguarda l'allenamento dei glutei. Allenarsi non è facile, soprattutto magari adesso che ci sono anche le vacanze. Ovviamente se vai via, prenditi quella settimana di stop, ok? Al fisico fa bene anche riposare, recuperare le energie, pensare ad altro. Quindi non ti preoccupare, non saranno due settimane, non sarà una settimana di stop a farti cancellare tutti i tuoi risultati. Però ricordati che questo è uno stile di vita, devi trovare il modo di viverlo tranquillamente, in modo equilibrato, in modo tale da non avere magari periodi in cui non hai voglia, ti senti demotivato, non vedi risultati. E a questo punto io spero di esserti stata d'aiuto, quindi facciamo un bel allenamento gambe e glutei tutti assieme dopo aver visto questo video. E come al solito, se tu ci è piaciuto, lascia un bel like, iscriviti al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!